Siamo in via Tito Livio, all'altezza dell'angolo con via Marcellino Ammiano a Milano, dove questa mattina intorno alle 8 è stato investito da un tram Luca Marangoni, un ragazzo di 14 anni che stava raggiungendo il liceo Einstein, che si trova proprio qui a un centinaio di metri dal luogo dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il ragazzo stava viaggiando in bicicletta insieme ad un compagno di scuola, quando all'improvviso alcuni testimoni hanno sentito il suono del clacson da parte dell'autista del tram e poi i rumori di una forte frenata. In quel momento molto probabilmente il ragazzo ha svoltato in questo punto che vedete, dove c'è l'asfalto che sormonta i binari, quindi dove c'è il passaggio per le auto, ed è stato travolto dal tram che arrivava da Piazza Salgari diretto verso il centro. Il compagno di classe avrebbe invece proseguito la strada in bicicletta per svoltare, molto probabilmente all'altezza qui dell'incrocio con le strisce pedonali. Per Luca Marangoni non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo, i vigili del fuoco poi hanno estratto il corpo da sotto il mezzo. Il ragazzo viveva nella zona di città studi, veniva quasi ogni giorno a scuola, dove frequentava la prima classe in bicicletta insieme al compagno. Adesso gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire anche attraverso le immagini delle telecamere dei negozi della zona l'esatta dinamica dell'incidente. Grazie.